che andava, siamo stati amici prima della partita, noi eravamo dopo ma assolutamente noi in campo e giusto così siamo professionisti Ho trovato uno Spezia, l'avevo lasciato che era in difficoltà e si era forse ripreso contro di noi a Cremona, contro la Cremona è stata forse la partita un pochettino della svolta e poi ho avuto questo caso nelle ultime due o tre partite, però ho trovato un gruppo affiatato che ha voglia di sacrificarsi ha voglia di mettere proprio il massimo impegno in ogni allenamento lo deve però fare ancora un pochettino di più perché ovviamente siamo un pochettino indietro e per raggiungere un risultato importante bisogna fare qualcosina in più ancora questa settimana soprattutto non ci si deve assolutamente rilassare e sedere su questa partita ma bisogna alzare ancora di più la tensione e domenica e Spavia dobbiamo proprio aggredirla per il primo minuto perché dobbiamo vincere assolutamente in grado E' potuto sembrare anche quando si porti in avanti questi calci sull'ultimo ore e questi calci d'anno di Vanucchi certamente potranno essere un'arma, lo sappiamo, lo spesso sicuramente Vanucchi è un giocatore che calza benissimo e per gli attaccanti o per i difensori che sui calci piattati vanno a colpire la palla di testa è un vantaggio enorme perché comunque chi calza la palla è fondamentale diciamo negli schemi e nella pericolosità poi di chi va a saltare oggi non l'abbiamo fatto su calci piattati ma lo avviene lo stesso e ce lo teniamo magari una partita sullo 0-0 da bloccare alla fine così su un calcio piattato Bentornati Grazie Ciao 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 Ciao